Aumenteranno le zone 30 all'ora. Ce ne sono già alcune istituite fin dai tempi della giunta di Giustina Destro. Quella attuale vuole estenderle alle vie dei rioni dove si affacciano scuole, piazze, chiese e luoghi di ritrovo. Alla Sacra Famiglia, lungo le centralissime via Torino e piazzale Firenze, l'area 30 all'ora è stata istituita molto tempo fa e piace. Unanime però il parere che i vigili non ci sono mai presenti a controllare il rispetto del limite di velocità. Secondo me è un limite ragionevole proprio perché questi quartieri dove ci sono scuole, attività, quindi bambini che circolano in bicicletta, che vanno a scuola in bicicletta, sono più sicuri e i genitori possono lasciarli andare meglio. Io non ho mai visto vigili che facessero controllare i limiti di velocità. Se c'è il vigile sicuramente qualcuno rispetta il limite, altrimenti è difficile, credo. Io sono d'accordo perché quando siamo in centri abitati bisogna andare piano. Incidenti più gravi sono quelli in città. Quindi stiamo attenti e limitiamo la velocità. C'è gente che corre forte. Anche nei quartieri, perché anche qua in via Cremona sono stati messi dei dossi per evitare di fare delle corse pazze. Dovrebbero essere i vigili urbani a far rispettare poi questo limite di velocità. Qui alla Sacra Famiglia si vedono? Diciamo che lì vediamo che passano, però che facciano blocchi eccetera, raramente perché probabilmente non ci può essere un vigile per ogni strada. È doveroso, è doveroso assolutamente rispettare un limite di velocità, che il 30 va benissimo, ma soprattutto anche guidare con coscienza. Perché, come diceva Anna, in questo quartiere ci sono tantissimi bambini che vanno via in bicicletta. E i ciclisti come si comportano? Anche loro alle volte sono molto indisciplinati. E qui in quartiere la presenza dei vigili? Zero, non c'è assolutamente nessun tipo di presenza. Non c'è assolutamente nessun tipo di presenza.